Inter Barcellona, tutto pronto? Si comincia! Brozovic non fare la puttana! Taglie! Vai Ivan! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Me la stava per mettere! Vai Ivan! Ma no! Dai, 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 dai! Dai che è rimasta lì! Mannaggia, oh! Ma sempre l'ultimo passaggio! Sbagliamo sempre l'ultimo passaggio! Bravo, scrigno! Scrigno! Fine primo tempo, 0-0! Possiamo fare di più! Forza, ragazzi! Forza! Secondo tempo! Dai, ragazzi! Dai! Crediamoci, cazzo! Crediamoci! Dai, dai, Ivan! Dai! Stai da solo, Gracia! Mamma mia! Mandanovic! No! Dai! Fuori gioco! Fuori gioco! Fuori gioco! Fuori gioco! Fuori gioco, fuori gioco! 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 Vuoi? Non ci voglio credere, non ci voglio credere, l'ha segnato Malcom, mamma mia, Mauro, Mauro, sì, sì, ma che palla ha preso Lautaro, che palla ha preso, sì, vamo, 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 che palla ha preso Lautaro. No, azzoppalo, azzoppalo, finita, finita, è finita, va bene così, va bene così, punto d'oro, va bene così, dai, 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 va bene così ragazzi, 1-1, 1-1, va bene così, dai, dai, ci abbiamo creduto pure se stavamo sotto, forza Inter ragazzi, forza Inter, dai.